Buongiorno, benvenuti alla partita tra l'Italenti Belluno e Calvi Nuale. Queste le formazioni che cederanno il campo al giorno del signor Marco Bonaldi di Materata. Italenti Belluno, numero uno, Borgetto, numero due, Lignanti. 27 giornata di campionato, Italenti Belluno-Calvi Nuale. Inizia la partita. Mister Vecchiato sceglie tra i palli Borgetto. In difesa Mignati, Mosca, Franchetto e Somacali. A centrocampo Masoc, Bertagno e Duravia. In attacco il trio Marta, Corbanese e Farinati. Al 18 la prima vera occasione della partita. Punizione laterale di Duravia. A centrocampo Masoc prova la conclusione volante ma Fortin respinge l'istinto. Al 24esimo Borgetto esce prontamente su Munarini e sventa la minaccia. Tre minuti più tardi, grande giocata di Farinazzo che si libera bene nello stretto e poi scarica un sinistro potente che termina di poco fuori. Un minuto di recupero. Arriva il fisco dell'arbitro. A fine primo tempo i talenti Belluno-Calvino Ale 0-0. Inizia la ripresa. Al cinquantesimo palo clamoroso di Duravia a due passi dalla porta. Grande occasione per i talenti Belluno. Al settantesimo gran tiro da fuori aria di Masoc. Palla non lontano dallo specchio della porta. Al settantaduesimo arriva il gol degli talenti Belluno. Deliziosa palla di Bertagno a centrora per Corbanese che di testa in sacca il vantaggio giallo-blu. L'arbitro concede quattro minuti di recupero. Al novantaquattresimo arriva il triplice fischio finale. L'italenti Belluno supera 1-0 il Calvino Ale. Decisiva la rete del capitano giallo-blu, Simone Corbanese. Mister Ovecchiato, una vittoria fondamentale oggi. Come dicevi tu, questa è un successo che vale più dei tre punti in palio. Contro le dirette concorrenti è chiaro che mancando così poco alla fine del campionato ogni partita ha un doppio valore perché tu fai i punti, loro no. È andata bene, abbiamo avuto qualche occasione, abbiamo concesso veramente poco o niente a loro. La partita è comunque complicata perché hanno una squadra molto brava a ripartire. Ha fatto quel Cobra e dunque siamo felici per lui. Analizzando la gara ti è piaciuta la prestazione della tua squadra o secondo te ci poteva fare qualcosa in più? Secondo me siamo stati molto bravi a fare le cose che volevamo almeno fino agli ultimi 20-15 metri. Dopo là ci vuole un po' di precisione, un po' di qualità. Il campo non aiuta sicuramente la squadra che deve fare la partita ma vale per tutti anche la stagione questa. Però abbiamo avuto la pazienza, abbiamo avuto la voglia di non subire le partenze sapendo che prima o poi noi in un'occasione la creiamo e poi ha fatto gol quello che di solito fa gol. Siamo a quota 38 punti, come dicevi tu ormai la quota salvezza è vicina. Questa squadra dove può arrivare? La salvezza è vicina, non è ancora raggiunta. Siamo a più 6 dei play-out, 7 partita della fine. Domenica abbiamo un'altra partita contro una squadra che lotta per non retrocedere. Dunque sappiamo che sarà una partita complicata. E' anche vero che se tu riesci a fare punti la prossima partita, le ultime 6 diventano probabilmente per un altro obiettivo. Mike Mignatti, una vittoria fondamentale, la classica vittoria che non vale solo 3 punti. Sì, ne abbiamo parlato tutta la settimana. Questa era una partita che poteva dare una svolta alla nostra stagione. E come ho detto anche un attimo fa siamo riusciti a fare un ottimo risultato. Non subire gol è stato importantissimo e siamo contenti per questi 3 punti. L'analisi invece della gara, il primo tema fosse un po' troppo lenti, poi nella ripresa abbiamo dato quel qualcosa in più che ci ha permesso poi con Corbanese di fare i 3 punti. Sì, non dimentichiamo che davanti abbiamo un avversario attrezzato che in questo giorno di ritorno sta facendo molto bene. Davanti si è attrezzata benissimo direi e niente, siamo stati ben attenti a limitarli e bene così insomma. 38 punti in classifica, ormai l'obiettivo salvezza è quasi raggiunto, mancano un paio di punti. Dove può arrivare questa italiana di Belluno? Penso che la prossima partita con la Vigontina sia equivalente a quella di oggi. Una volta fatti i punti anche lì, dopo potremo pensare di raggiungere altri bottigli. Un'ultima battuta, abbiamo girato nel girone di andata a quota 15 punti, ora 38, c'è stata una svolta dopo la partita di Montebelluna. Sì, dopo Montebelluna abbiamo capito che bisogna rimblocarsi le maniche e non pensare a tutte le assenze che avevamo. Si è andati da fare sul campo, l'allenamento, veramente, si è venite a vedere il lavoro che svolgiamo durante la settimana, c'è una cattiveria e una determinazione nelle cose che facciamo che ci ha portato a questo. Andrea Franchetto, una vittoria importante oggi, tre punti fondamentali, anche perché affrontavamo il Calvino Ale, quindi uno scontro diretto. Sicuramente sì, era importante dopo la brutta sconfitta di Tamai e la sosta che ci ha permesso di recuperare le energie, soprattutto mentali, ritrovare i tre punti perché ci servono per allontanarci dalla zona calda e la classifica e salvarci il prima possibile. Un altro fattore importante oggi è stato non subire gol, quando non si subisce gol come con l'altro Vicentino, poi Corbanese in qualche modo ci pensa sempre. Assolutamente sì, il Cobra ha ritrovato il gol e sono molto contento per lui e penso che è il nostro compito in difesa non subire gol. Oggi non è stato facile perché comunque loro davanti vanno due giocatori di spessore, però penso che ce la siamo cavata abbastanza bene tutti quanti. 38 punti, ormai la quota salvezza è quasi raggiunta, dove può arrivare questa squadra? Quasi raggiunta, hai detto bene. L'importante è salvarci il prima possibile per poi vedere e puntare i primi posti sopra di noi. Le squadre sotto penso che abbiano perso, quindi la vittoria di oggi ci ha aiutato a salire di qualche posizione. Adesso dobbiamo affrontare partita per partita sapendo che ogni partita è una finale. Simone Corbanese, una grande vittoria oggi contro il Calvino Ale, sei tornato anche al gol su azione, una domenica perfetta per te. Sì, siamo contenti perché era una vittoria importantissima, una vittoria pesante che ci permette di affrontare le prossime gare con un po' più di tranquillità, anche se non è finita perché dobbiamo raccogliere ancora parecchi punti per stare tranquilli il prima possibile e poi per raccogliere un risultato importante. Analizzando invece la gara, nel primo tempo forse ci è mancato magari lo spunto vincente negli ultimi 15-20 metri, nel ripresa invece siamo riusciti anche a creare qualche occasione in più alla fine la vittoria è arrivata. Sì, abbiamo manovrato bene il gioco. Il primo tempo, come hai detto, forse gli ultimi metri è mancato il guizzo, è mancata un po' di qualità, però siamo stati bravi, ci siamo detti che dovevamo continuare così, il secondo tempo abbiamo continuato, abbiamo creato buone cose e per fortuna è arrivato il gol. La salvezza potrebbe essere chiusa già con una vittoria la prossima settimana a Vigonza? Pensiamo a vincerla e poi a vedere gli altri risultati e dopo, come ho detto prima, tutto quello che sarà in più ce lo saremo guadagnato e sarà una soddisfazione maggiore anche perché, vista la partenza non bellissima di quest'anno, sarà una soddisfazione ancora più grande.